Popi, 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 Popi. La mia vita non può andare così, trani verso il te collocamento. A me sembra un vero lamento, che fa rima con collocamento. Mi sento inutile e passò giornata perse, per quelle strade molto bui e diverse. Cercando di sorridere, pensando al mondo Rullo un altro spino e dopo ti rispondo E chilometri di carta che aspartamo E chilometri di cartoni che aspartamo E chilometri di benzina che aspartamo E chilometri e chilometri spariamo Giovanocco, prendiamo i documenti Giovanocco, vediamo i precedenti Giovanocco, si metta la cintura Giovanocco, per la vita è dura Quindi bisogna risparmiare energia Perché voi dovete sapere che quando Piggiate quel maledetto ditino Sull'accensione on-off della vostra cassa Della luce, quello è un barriere di petrolio Che se ne va Mentre se mettete i panini fotovoltaici Per il kilowatt più o meno L'energia che utilizzate è una energia Che viene sentita dal sole E quindi praticamente non Non utilizziamo carbonifore Compostibili fossi Non utilizziamo petrolio, appunto Non utilizziamo il nucleare Ma a tutte immagini Che si diceva che la termine merese A tutte immagini Cioè io Diceva che ce l'abbiamo in Francia E' stato un'ora in Francia Non lo capisco No abbiamo in Francia E' stato un'ora in Francia E la tua che drue all' ayudar Nooooooooooooooo